Ok! Eccoci qua! Credo... credo che il pure sia quasi pronto! Proviamo ancora un'altra leggera mescolatina! Ok! Eccoci qua! Qualcuno gradisce le mie occhi pasti? Sì! Speravo di sentirvelo qui! Perfetto! Ti desidero mangiare l'ala? La tua o quella del tacchino? Io so cosa preferisce lei! Una coscetta? O magari due? Che ne dici se le prendo tutte e due e gliele ficco dritte nel culo, comprese le ginocchia? Dwight Dwight rilassati! Oh! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.